Ciao a tutti e benvenuti su Uncome. Nel video di oggi vedremo alcuni esercizi per rafforzare i glutei. Inizieremo con i piedi in parallelo, cercando la linea esterna del piede per una posizione corretta. Poi separiamo le braccia dal corpo piegando leggermente i gomiti, ispiriamo e quando ispiriamo, con il peso ben equilibrato e i piedi appoggiati per terra, attiviamo i glutei, apriamo il petto e proviamo a fare una diagonale con il corpo. Anziché portare il peso sui talloni, lo portiamo verso la punta dei piedi. Attiviamo i glutei, quindi inaliamo, allunghiamo la parte bassa della schiena e lentamente scendiamo. Quattro, tre, due e uno. E rimaniamo così otto secondi, allungando il corpo in avanti. Inaliamo e poi ispiriamo. La schiena dritta e continuiamo ad allungare. sei, cinque, quattro, tre, due e uno. E in questo punto proviamo che le braccia seguano la linea del nostro tronco, con le braccia ai lati delle orecchie. In questa posizione non solo allunghiamo la schiena con gli addominali in tensione, ma iniziamo a sentire come tutta la parte posteriore delle gambe dei glutei si attiva. Ispiriamo ed espiriamo e continueremo a scendere portando le braccia verso terra, sempre più lontano. Non appoggiamo le mani, le palme delle mani sono parallele e una di fronte all'altra e continueremo a scendere portando le braccia verso terra, il più lontano possibile. Facciamo quattro respiri, ispiriamo e ispiriamo, ispiriamo e ispiriamo, inspiriamo ed espiriamo, inspiriamo ed espiriamo. Resteremo per otto secondi portando il peso verso le dita dei piedi senza alzare il tallone e iniziamo a sentire che la parte posteriore delle gambe comincia ad allungarsi e anche i glutei. manteniamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Manteniamo e solleviamo i taglioni in questo modo appoggiandoci sulla punta delle mani e la punta dei piedi e manteniamo 4, 3, 2 e 1 e appoggiamo i talloni. Notiamo che adesso possiamo portare il busto un po' più lontano. Ci prepariamo per alzarci, continuiamo a mantenere le ginocchia tese, glutei duri e torniamo in posizione verticale. 8, 7, 6, 5, al centro, 4, 3, 2, contrazione del bacino, 1 e fine. Ripetiamo l'esercizio, portiamo le braccia in alto, inaliamo ed esaliamo con la schina dritta. 1, 2, 3, 4, al centro, schiena dritta. Addominale in tensione, peso verso la punta dei piedi e ci pieghiamo. 4, 3, 2 e manteniamo i glutei perpendicolari a terra con la schina dritta. 4, 3, 2, allunghiamo lentamente. 4, 3, 2 e scendiamo a terra. 4, 3, 2 e rimaniamo toccando con la punta delle dita. Alziamo i talloni, tutto il peso sulla punta dei piedi. Allunghiamo le ginocchia e sentiamo tirare la parte posteriore. Abbassiamo i talloni, esaliamo ed allunghiamo il torso. ci prepariamo a tornare in posizione verticale. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ed eccoci pronte per la lezione!